Maria è un modello di come prepararsi al Natale. Nella quarta Domenica di Avvento, Papa Francesco ha invitato tutti a volgere lo sguardo alla semplice fanciulla di Nazareth in questo tempo di gioia. La mamma di Gesù, infatti, rappresenta per tutti un esempio di fede piena. Maria non sa per quali strade si dovrà avventurare, quali dolori dovrà patire, quali rischi affrontare. Eppure è consapevole che è il Signore a chiedere, e lei si fida totalmente di Lui e si abbandona al suo amore. Rispondendo con un eccomi umile e coraggioso. Un altro aspetto essenziale della Madre di Cristo, ha proseguito il Pontefice, è quello di riconoscere il tempo di Dio. Il verbo che trovò di mora nel grembo virginale di Maria, chiarito, nella celebrazione del Natale, viene a bussare nuovamente al cuore di ogni cristiano. Quando noi sentiamo nel nostro cuore, ma io vorrei essere più buono, più buona, ma io mi sono pentito di questo che ho fatto. E' il Signore che bussa proprio, ti fa sentire questo, la voglia di essere migliore, la voglia di rimanere più vicini agli altri, a Dio. Se tu senti questo, fermati, è il Signore lì, e vada alla preghiera, e forse alla confessione, a pulire un po' la stanza. Quello fa bene, ma ricordati bene, se tu senti quella voglia di migliorare, è Lui che bussa. Non lasciarlo passare.